La rottura di Nina Di Azzurra, squalificato. Vantaggio Nitrile con all'esterno Navacos, veloce alla seconda fila, Naif di Poggio, all'argo c'è anche Masterpiece IC, 200 iniziali in 13 e mezzo con Navacos che ripiega dietro a Nitrile, il quale poi da strada, Masterpiece, e così dopo 350, Masterpiece, Nitrile, Navacos, Naif. All'esterno Linda Obie, tanto cavalli hanno completato la prima curva, Masterpiece che va via di gas, il completamento dei primi 600 metri, se ho preso bene io ho 42 e mezzo, di ritmo direi quasi proibitivo. A capeggiare il gruppo degli inseguitori Nitrile su Navacos, 800 in 57 per Masterpiece IC, tanto prova a venire via in terza ruota Noringa Gym, mentre Masterpiece ha chiuso il chilometro in 1,12 scarso, quelli che vanno verso il passaggio dei tre quarti di miglio, con Masterpiece che per ora sta facendo corsa per conto proprio, poi Nitrile in terza ruota prova a farsi luce nell'Itacaf anticipata da Navacos, della partita anche Lepre Petral, intanto Masterpiece in chiara evidenza 200 dal palo, poi Nelita, Nitrile, Navacos, Lepre Petral, Masterpiece IC che prosegue al comando, ed è Masterpiece IC che viene a vincere davanti a Nelita Cup, Lepre Petral, Navacos per il quinto posto, sono in linea Madrid-Dry Night di Poggio, 1,56 e 7, quindi la media direi intorno all'1,12 e 8, 12,7, ma dovrebbe essere senza dubbio al di sotto dell'1,13, il successo per Masterpiece IC e Barbara Renzulli, training ancora di Barbara Renzulli, colori della scuderia Cavaliere King, il secondo per Nelita Cup, poi il terzo per Lepre Petral, completa il marcatore il quarto di Navacos,